Ciao a tutti, mi chiamo Davide Grasso, sono uno degli italiani partiti in questi anni per la Siria per combattere contro lo Stato Islamico nelle unità di protezione popolare kurde YPG e nelle forze siriane democratiche. Come tanti altri ho scoperto nella Siria del Nord una rivoluzione, in grado di costituire una federazione autonoma, migliaia di comuni popolari, centinaia di cooperative egualitarie e di case delle donne, dove le ragazze e le signore kurde, arabe e zide possono trovare protezione dal patriarcato e dalla violenza di genere. Questa rivoluzione è adesso sotto attacco da parte del presidente islamista della Turchia Erdogan e delle bande jihadiste adesso alleate in Siria. La città di Afrin è stata bombardata e occupata e oltre 200.000 persone sono in fuga, sfollate, senza acqua, senza cibo, senza medicinali, senza casa, in una situazione in cui ci sono già principi di epidemia e già diversi minori purtroppo sono receduti nell'indifferenza internazionale. Dal 25 aprile fino al 2 giugno in Italia si svolgerà la campagna di raccolta fondi straordinaria Siamo Afrin. Mi invito perciò a visitare il profilo Facebook e l'account Twitter Siamo Afrin e il sito web ufficiale del crowdfunding l2l.it slash Siamo Afrin. Afrin. Queste donne, questi uomini, questi bambini, questi anziani meritano tutto il nostro rispetto, la nostra attenzione e il nostro aiuto. Perché tutti noi e tutti noi in questo momento dobbiamo essere Afrin e siamo Afrin. Grazie a tutti. Grazie a tutti.